Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Parte terza del primo episodio di Siphon Filter Dark Mirror e continuiamo. Alla ricerca di Freeman. Mi sono infiltrato nei tunnel di accesso inferiori che portano all'area di sicurezza della Camp Synth. Ho eliminato uno dei capi della sezione rossa, un uomo dal nome in codice Red Jack. Per qualche ragione mi ha ricordato Anton G. Do. Esatto, è la stessa cosa che avevo detto io la scorsa volta. Come sospettavo la sezione rossa non è un tipico gruppo di terroristi, né qui per distruggere l'oleodotto. E allora perché qui? Il nostro profilo NSA sul sovraintendente della Camp Synth, un uomo di nome Malcolm Freeman, è incompleto. Con diverse sezioni contrassegnate come riservate. Teresa ha rintracciato gli archivi personali di Freeman sul server della Camp Synth. Una volta in possesso di questi avremo qualche risposta. Gabe Logan. Red Jack, sei tu? Com'è andata lassù? Ehi, sto lavorando sulla linea elettrica. Attento a non toccare quell'interruttore di sicurezza. Teresa, sono dentro. Se riesci a collegarmi alla rete della Camp Synth, potremo accedere ai file personali di Freeman. Ricevuto. Dove devo andare? L'ufficio di Freeman è al secondo piano. Passerai sul retro, per cui dovresti incontrare poca resistenza. No, preferisco la... Preferisco la pistola al mitragliatore. Allora, qua... Ah, ecco. Pensavo di sparargli come ai vecchi tempi, invece no. Passerai sul retro, per cui dovresti incontrare poca resistenza. Ah, ok. Mi sa che devo sparare al... Sì. Oh, il primo game over. Mi sa che devo sparare al... A quella cosa, vero? Quella cosa verde, per togliere le fiamme. Ok. Ok, qua possiamo andare. Sì, mi sa che devo sparare là, vero? Esatto. No. Teresa, qui c'è un contenitore di materiali idroponici. Un posto un po' strano per quella roba. Cerco di scoprire qualcosa. Altro? Per ora no. Chiudo. Questo cos'è? Tipo... E' di 938. Cos'è? Mi arrivo qualche codice o qualcosa? Oh. Allora, vediamo se m'hanno sentito, perché... ... ... ... ... ... ... ... Sì! attenzione che li stanno arrivando ok in teoria dovrei averlo ok chiave dell'ascensore presa allora io dovrei avere il medipack giusto esatto almeno ci curiamo e meno male che non avrei dovuto trovare resistenza sono nell'ascensore della sicurezza sono pronto ancora nessuna notizia di lean niente ah quindi già addirittura è finita la parte 3 madonna ma durano pochissime comunque queste missioni vabbè a sto punto però la taglio perché voglio farli missione per missione quindi probabilmente vedrete dei tagli perché appunto le taglierò missioni per missioni quindi se non saluto o non faccio i saluti è perché appunto sto registrando di fila quindi però per il momento è tutto e ci becchiamo alla prossima quindi andiamo Grazie.